Dove siamo Alice? Siamo a casa nostra, di sotto. Dove è casa tua? Dove è camera tua? A Vaglio. Camera tua dov'è? Lì. Quella finestra di lì. Di lì cosa vuol dire? A destra. Ah. Qua sotto qua c'è? Le barche? Sì, e qua c'è la macchina che le fa andare. E qui sotto nella darsena c'è... Un signorocigna. E io che li darò a mangiare alcuni giorni il cibo che ho noi. Troppo lontano.